quindi che devo fare vedo tutto l'occorrente per giocare immagino vogliate che io giochi così tonte non pensavo oh finalmente devo giocare così con questa voce ok giochiamo ciao ragazzi mi sentite ma sei italiano allora ragazzi cerchiamo di mettere una barricata nelle parti più importanti così che almeno non non entra no way this bitch kill me che fantasia ma perché mi state sparando ma sto c'è ma ancora che parla pure vabbè insomma attività nemica neutralizzate la minaccia ma lo fai a posta a giocare è così male o solo perché stai schifo a giocare dai no raga così è veramente impossibile giocare si può bastare così ciao tube ti ho osservato mentre giocavi ti ho ascoltato soprattutto ora sai cosa prova una donna quando gioca non è divertente lo ammetto è frustrante giocare così quindi tube dopo questo esperimento che cosa diresti alle gamer direi che avete vinto voi continuate a giocare nonostante abbiate addosso una costante penalità e quindi siete le vere vincitrici ed è giusto che abbiate la vostra voce ciao Grazie a tutti